ciao ragazzi e bentornati e torniamo a parlare di udinese inter il giorno dopo perché è vero l'inter ieri ha conquistato tre punti importantissimi su un campo tosto e lo ha fatto facendo una gran bella prestazione da un punto di vista del gioco però il fulcro del video è la difesa perché il dato in questo momento dice sette gol presi in sei partite e secondo me non è un problema di fase difensiva perché l'inter durante tutta la partita non prende imbarcate non è l'inter di due anni fa che subisce contropiedi a manetta e fa segnare anche gli spettatori l'inter ben o male già dall'anno scorso ha saputo gestire questa cosa perché il punto è che l'inter con inzaghi i gol li ha sempre fatti il problema è sempre stato quello cercare di avere una fase difensiva che potesse sostenere questo tipo di gioco l'inter ha trovato la quadratura del cerchio l'anno scorso e ha vinto il campionato anche in maniera netta e adesso siamo qui a rivedere alcune cose che non ci fanno piacere ma i problemi sono due in difesa e non è certamente la fase di non possesso no no secondo me il punto è che a una certa l'inter arriva corta e perde di lucidità tant'è vero che quattro gol su sette sono arrivati nei minuti finali sintomo di una squadra che ancora non è in forma e che spendendo tanto arriva a un certo mentale e questo è il primo punto il secondo punto è che non è che lo scopriamo oggi ma bisse in difesa è poco attento è un giocatore che è carente perché se guardiamo i due gol anzi tre gol presi che abbiamo preso non nei minuti finali due di questi sono colpa di bisse perché ok a genova sommer sbaglia l'uscita ma bisse dorme da paura e sintomo di un giocatore che in certi momenti sembra non avere la bussola dritta ieri si perde cabasele se non mi ricordo male e gli lascia sette metri di spazio per saltare indisturbato e anche in difesa non è tanto pulito se parliamo di uomo su uomo è un giocatore che ha delle carenze perché il punto è che l'inter sa stare in campo ha trovato il suo equilibrio ma dobbiamo migliorare questi due aspetti bissec purtroppo è un giocatore che ancora deve essere lavorato sul sulla condizione dobbiamo aspettare chiaro che l'inter ieri è entrato in campo benissimo ed era questo quello che volevo dopo il derby una squadra che entrasse in campo e facesse capire all'avversario che le cose qui le risolviamo in un attimo infatti l'inter segna dopo neanche un minuto prendiamo poi l'uno a uno facciamo il due a uno con l'autaro nel finale meritato perché l'inter ieri se c'è un'altra cosa negativa della partita è che ha fatto una marea di azioni e ha segnato solamente tre gol tra l'altro uno su un semi autogol di bijol e l'altro l'autaro martinez ha fatto un gol della madonna finalmente l'autaro si è sbloccato e ripeto lasciatelo carburare perché questo è un giocatore importante io anche lì mettere a confronto i dati dell'anno scorso con quelli di quest'anno considerando il fatto che l'autaro non ha fatto la preparazione lo trovo lo trovo assurdo lo trovo eccessivo però l'inter ieri ha conquistato tre punti grazie anche l'autaro martinez però ragazzi con un gol preso a partita non si va da nessuna parte non si vincono i campionati la juventus ok propone un calcio conservativo e se ha determinate situazioni e una certo tipo di partita fa tutta la differenza di questo mondo ma è una squadra che non prende gol è una squadra che in fase offensiva ancora fa fatica perché secondo me mancano dei pezzi a loro ma è una squadra che non prende gol e non subisce neanche un tiro in porta e se lo prende lo prende nel finale poi i nostri sono stati degli errori individuali figli di una concentrazione bassa dovuta al fatto che la prestazione è stata talmente dispendiosa che l'inter ha una certa ha mollato e mentalmente ha lasciato un po' andare la partita e questo è un errore che con l'udinese non paghi ma se ti trovi in altre situazioni beh la situazione diventa decisamente diversa questo secondo me è il punto che la fase difensiva secondo me crescerà con la condizione della squadra ed è una cosa normalissima però alcune scelte in fase di formazione diciamo che andrebbero un po' riviste perché bisse che è un giocatore per l'amor del cielo bravissimo offendere tanto è vero che gli mette sempre darmian a fianco in zaghi perché sa che darmian fa da tampone molto bene però bisse che è un giocatore che non marca l'uomo bene è uno che fa fatica in difesa se gli chiedi di sgroppare è fortissimo se gli chiedi di difendere o comunque di fare un minimo di fase difensiva è un giocatore che ha ancora tante lacune tantissime lacune poi ragazzi il campionato è lungo e vedremo però o si migliora questo dato o l'inter non dico che farà la stagione delle 12 sconfitte perché la vedo come cosa improbabile perché lì c'erano veramente dei difetti strutturali a livello di gioco sulla fase difensiva qua invece vedo un inter più ordinata ma che in alcuni casi si lascia andare e si distrae facilmente e qui bisogna lavorare non solo sulla condizione fisica che arriverà perché arriverà ma soprattutto sulla testa perché perché l'inter ha subito dei gol ingenui che potevano essere evitati e che sono figli secondo me di una testa che al momento non è ancora al 100% speriamo che la squadra e il mister possano riprendere tutto in mano ma sono molto fiducioso anche perché questa è una squadra consolidata una squadra che ha giocato una finale di Champions League parlo di alcuni elementi che ha vinto uno scudetto meraviglioso l'anno scorso e che ha assaggiato già il sapore amaro della sconfitta quindi è una squadra cresciuta maturata e sicuramente i ragazzi lavoreranno al meglio per poter rimettere la barca a posto è una vittoria del quale sono contento a metà devo essere sincero però dei cose positive ce ne sono state a Udine e portiamoci avanti quelle e correggiamo i difetti poi ragazzi vedremo quello che succederà basta questo era il video fatemi sapere la vostra nei commenti sempre Forza Inter e seguite la pagina per altri contenuti per altri contenuti